Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su gt5 online E oggi ci troviamo qui con un nuovo death run Siamo pronti abbiamo qui il macete Allora mamma mia uno è già... ma che cazzo è ragazzi? Un mio alleato è stato sparato in aria Mamma mia povero lui Povero lui ragazzi dove cazzo è finito? Non si sa non è ancora morto Ok si è suicidato è morto adesso ragazzi Mamma mia incredibile incredibile Allora cerchiamo qui di stare attenti E queste parti qui non promettono bene Cerchiamo di andare Comunque spero ragazzi qui di fare qualcosa di buono L'ultimo death run l'abbiamo fatto piuttosto bene Quello lì l'abbiamo fatto con le moto Insomma un po' diverso rispetto al solito Ragazzi sarà veramente un problema andare qui anche con le paleoliche Vai adesso! Ok ce l'ho fatto mamma mia Mamma mia vediamo un po' i miei alleati cosa fanno Vediamo un po' ok il primo è andato Vediamo il secondo ce la farà? Ce la farà? No è stato colpito Ok perfetto ragazzi siamo rimasti già in due Ha inizio detto run va bene va bene Allora cerchiamo di muoverci qui perché gli altri ovviamente ci sparano Non perdono assolutamente tempo Qui è caduto qualcosa va bene Un rimorchio andiamo saliamo nel rimorchio E continuiamo ragazzi c'è anche un'auto lì Per terra va bene va bene non per terra però Diciamo diciamo per terra avanti Allora dobbiamo andare adesso da questa parte Io sinceramente cioè ovviamente non lo conosco quindi Non so esattamente le trappole e tutto quindi dobbiamo stare calmi Almeno per i primissimi round Allora andiamo subito in quella barriera Vai 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 e copriti Vediamo un po' forse adesso cadrà qualcosa No non c'è nulla qui sopra va benissimo Va benissimo ragazzi continuiamo Allora in tanti mi avete consigliato di prendere degli snack o delle cose del genere Il fatto ragazzi è che se devo essere sincero Cioè io penso a comprarli Ma poi cazzo me li scordo prima di giocare gli datteranno Una cosa incredibile Vai 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 salta Ok ci siamo fermati qui va bene Intanto lì stanno buttando giù cose a caso Andiamo giù per i container mamma mia Ma perché non passo Ok non passava ragazzi Vai qui e copriamoci ancora ok Allora lì c'è quella cosa che potrebbe esplodere Un vero problema ragazzi Un vero problema Oh merda l'auto ha fuoco Via via torna indietro Torna subito indietro Non voglio rimanerci fottuto Ok il mio alleato ovviamente ha capito il tutto L'auto esplosa Dovrebbe esplodere anche più o meno quella cisterna Infatti esplosa Vediamo un po' Sì ragazzi ok perfetto La via è libera La via è libera ma c'è tutto No come cazzo facciamo Ci sono i bus ragazzi No siamo fottuti Corriamo corriamo C'è anche il mio alleato così Non so sono un po' distratti Via andiamo Mamma mia ragazzi siamo fottuti Siamo morti per forza qui Siamo morti per forza È caduto qualcosa Forse il bus non lo so Velocità andiamo Andiamo vai 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 Che non mi colpiscono Ancora non mi hanno colpito È veramente assurda la cosa Vai Occhia Uh mi hanno colpito infatti Attenzione sta accadendo qualcosa Copriamoci Perfetto ragazzi Mamma mia ma dove cazzo sono le armi Quanto manca C'è anche un dump lì Ragazzi non ho mai visto un dump Nei death run Oh merda siamo fotti Dobbiamo fare ancora tutto un giro incredibile Va bene Devo buttarmi giù Come cazzo faccio No ragazzi Come facciamo Il mio alleato è lì Vabbè andiamo anche a noi Andiamo 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 Vai 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 Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Attenzione qui Perfetto ce l'abbiamo fatta E qui nel container Mamma mia non mi hanno colpito È veramente intenso ragazzi Veramente intenso Quel tutto perché Cioè è lungo il death run Continuiamo ad andare Va bene Tutte zone ovviamente assurde Qui ci sono bancarelle della frutta Che ci proteggono Oh merda non andare fuori Mamma mia Ogni tanto Oh ok con calma Ragazzi un pizzico di vita Ogni tanto il mio personaggio Fa movimenti strani Allora controlliamo un attimo gli snack Ok queste cose qui un po' dovrebbero curare Vabbè veramente pochissimo Però ragazzi utilizziamole Avanti Utilizziamo questi snack Trucchi incredibili Allora potrebbero anche far saltare in aria Qui il bus Quindi dovrei muovermi Recuperiamo tutta la vita ragazzi Va bene Io direi Oh merda lì c'è qualcosa che sta prendendo a fuoco Andiamo un attimo Ecco qui Andiamo un attimo indietro Perché non voglio sinceramente Rimanerci fottuto Uno intanto si è suicidato Uno nemico Come cazzo è potuto succedere Non lo so Vai 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 Velocità Ok ragazzi comunque stiamo andando avanti Con calma Ce la stiamo Più o meno facendo Vai come facciamo qui ad andare Vai 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 Cadi giù Perfetto ragazzi ci siamo Ci siamo con calma adesso Io direi di Di correre Mamma mi è caduto qualcosa Sopra di me Vai vai Andiamo 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 Velocità Ormai facciamo tutto di velocità Perché Perdere tempo Non ha senso ragazzi Il mio alleato è rimasto indietro Noi cerchiamo di andare Ormai Andiamo andiamo Qui ci sono i tubi dinamici Ok l'abbiamo superati Andiamo 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 ragazzi Superiamo tutto Superiamo assolutamente tutto Di velocità Di velocità Non ci spaventiamo Non ci spaventiamo Comunque penso che le armi Siano ormai vicine Qui c'è qualcosa Non c'è nulla Ragazzi penso che le armi Siano vicine Cazzo Questo dettran È veramente lunghissimo Allora vediamo un po' Scendi qui Perfetto Cos'è devo andare in salita No è impossibile Vai 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 Ok ok Mi hanno colpito Ma siamo ancora qui Siamo ancora qui ragazzi Vicinissimi Probabilmente Alle varie armi Andiamo 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 Ok E adesso manca qui L'ultimissima parte L'ultimissima parte da superare E dopo di che Avremo le armi E penso che Potremo ucciderli Senza problemi Vediamo se è vero Ok ecco qui il carro armato Ragazzi Prendiamo il carro armato Perché non voglio rischiare Di rimanere fottuto Con l'rpg Come Come nell'ultimo dettran Andiamo un po' Andiamo avanti Ed ecco qui Quei bastardi Uccidiamoli subito Ok ragazzi Ne abbiamo uccisi Manca l'ultimo Forse si è buttato giù Ah no è lì È lì ragazzi Si vede in trasparenza Ok l'ho ucciso Cioè era nascosto Non so Un fantasma Comunque ragazzi Abbiamo completato il dettran Al primo tentativo Mamma mia Round vincitore Veramente eccezionale E questo qui comunque dura Veramente tanto Dettran Comunque ottimo ragazzi Eccezionale Non siamo morti Ho utilizzato gli snack Quei pochi che avevo E abbiamo preso il carro armato Li abbiamo fottuti Veramente ottimo Rieccoci Adesso avremo i cecchini Prendiamoli subito Anche qui ci sono Le paleoliche Cosa molto negativa Molto negativa Allora Dove sono gli altri Io dovrei superare Ragazzi Questa paleolica Perché altrimenti Non si capisce nulla Salta Ok Ce l'ho fatta Allora Vediamo un po' Dove sono gli altri Eccolo 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 Boom Fotto cadere i bus Lì dovrebbe esserci I tubi dinamici E facciamoli cadere adesso Vediamo un po' Adesso o no ragazzi Non so Ma perché gli altri Mi guardano Cazzo Fate Cioè Sparate agli altri Mamma mia Cioè Quello con gli occhiali Che mi guarda Cadete cadete Vai colpitelo Colpitelo Anche se forse Un po' troppo tardi Non lo so ragazzi Come cazzo Dovevo calcolarmi Non lo so Ok È morto Si è suicidato Ok È andato giù ragazzi Vai Altro round Vinto Perfetto Eccezionale No questo detto round Sta andando Veramente benissimo Perfetto Ce li siamo Andiamo subito Non fatevi colpire Dalle paleaoliche Come prima Mamma mia Ci rimangono Ci rimangono fregati Oh il mio personale Ecco qui No Che cazzo è quello Laggava Attenzione qui Stavo quasi per essere colpito Allora io qui ragazzi Farò tutto Di velocità Andiamo adesso Vai 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 Ok perfetto Siamo riusciti a passare I miei I miei compagni passeranno Vediamo un po' ragazzi Se passeranno Uno è già morto Uno l'hanno già cecchinato Allora Facciamogli adesso Ecco quel recipiente Via da qui Via da qui Adesso esploderà Non andare lì Non andare lì Non andare lì Che è una trappola È una trappola Ok ragazzi Qualcosa esplosa E lui è rimasto È sempre quello Che si fa le foto Vestito da poliziotto Tra l'altro Va bene Andiamo Muoviamoci Andiamo qui Nei container blu Siamo in tre Rispetto prima Una cosa positiva Mamma mia Il bus ragazzi In testa Come ha fatto A non colpirmi il bus C'è il bus ragazzi Non ha colpito nessuno Uh Qui mi hanno sferato Sono caduti i tubi Sì perfetto ragazzi E andiamo Subito giù Guardate tutti i tubi lì Io non so come Attenzione La velocità del mio personaggio No Si è suicidato ragazzi Troppa velocità Ed è caduto Non ce l'ha fatta Rimanere in piedi Sinceramente Non me l'aspettavo ragazzi E niente Qui siamo morti Mi sa che abbiamo perso Il round È vero È vero Sì ragazzi Abbiamo perso il round No io non me l'aspettavo Pensavo che il mio personaggio Rimanesse lì Dato che Nel round precedente Andavo anche Velocissimo Non so Niente siamo caduti Vabbè Purtroppo era normale Trappole ovunque Prendiamo i cecchini E andiamo Andiamo Superiamo però questa Paleolica Bastardissima Vai 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 Ok superata Perfetto Questo è già ragazzi Il primo ostacolo Anche per Per gli sniper Allora lì c'è qualcuno Mamma mia Per pochissimo L'abbiamo colpito No questo qui però Non è possibile Si fa sempre le foto Con questi occhiali qui Non va bene Non va bene Allora noi dobbiamo cercare Di colpire gli altri Ecco stanno già avanzando Vediamo un po' Eccolo lì Uh non l'ho colpito Eh ma mi sa che Lì non possiamo colpire nessuno Ragazzi Allora facciamo cadere le auto Perché gli altri Non fanno cadere le cose Non so perché Non so perché Ma gli altri Non fanno cadere Le varie cose Si stanno per buttare Andiamo Facciamo cadere subito Tutti i tubi Tutti i tubi giù Allora quelli si sono buttati Ragazzi Uno è morto E l'altro Vediamo un po' Che fine fa Vediamo un po' Che fine fa Si è salvato Incredibile Mamma mia C'è un altro lì Ragazzi Vediamo di colpirlo Anche se Se laggo un po' Vai vai che forse Attenzione si è aggrappato sopra Andiamo Ok ragazzi L'abbiamo colpito Non l'ho ucciso io Però abbiamo insomma Contribuito all'uccisione Dato che un colpo Gliel'ho dato Eh se dovessimo vincere Questo round Vinceremo praticamente La partita Lì è caduto il dump C'è uno rifugiato Dentro i container Forse non uscirà mai Da lì Non lo so Forse sta per passare Vediamo se è vero Io intanto mi preparo qui Vediamo un po' Uh ragazzi Ha pochissima vita Ha pochissima vita Si è salvato Veramente per poco Allora qui Mamma mia Mamma mia Questo qui si sta Veramente salvando Allora noi dobbiamo Risuperare la paleolica Andiamo Ok così possiamo stare Tranquillamente Da questa parte A sparargli Allora quel bus Ok rimasto lì Va bene Questa è una parte Veramente utile Facciamola esplodere Così Uh attenzione Vieni qui Boom No perché Perché non l'ha colpito Perché non l'ha colpito Ragazzi Ero impegnato a colpire il bus Eccolo qui dentro il bus Andiamo 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 Vai un'occasione Un'occasione Spara 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 Ok ragazzi L'hanno ucciso Il mio cazzo di fucile Non ricaricava più Ragazzi Dovremmo aver vinto la partita Vero? Sì ragazzi Partita vinta Mamma mia Eccezionale No un net run Veramente bellissimo È andato benissimo Il primo round L'ho concluso Alla perfezione Abbiamo ucciso tutti Senza morire ragazzi Veramente È eccezionale È stato Molto molto bello Devo dire È andato benissimo Ragazzi che dire Spero che il video vi sia piaciuto Ogni tanto facciamo qualcosa di buono Anche nel net run Qui a Dex Ti ha lasciato un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video